Sono Michelangelo Di Toma. Vi introduco nel mondo Wilson & Morgan passando attraverso una release, dei rilasci, di denominati Castrend Selection, di Wilson & Morgan appunto. Per questo rilascio e per questo momento speciale della nostra giornata, per questa occasione speciale della nostra giornata, ho scelto l'Incwood. Qui il selezionatore è entrato nella distilleria, ha selezionato la botte che riteneva opportuna e quella botte selezionata rimarrà ad invecchiare nella distilleria tutto il tempo necessario per arrivare a piena maturazione, secondo gli intendimenti del nostro selezionatore, in questo caso di Wilson & Morgan. L'Incwood è una distilleria che è nello Speyside, è il cuore sostanzialmente pulsante della Scozia, dove i whisky più interessanti vengono prodotti. È un whisky non torbato. La torbatura è la tostatura per effetto di torba, da parte della torba appunto, del cereale. Ma il più delle volte i cereali non vengono torbati. La torbatura veniva utilizzata nel momento in cui non c'erano a disposizione altri tipi di tostatura, quindi non c'era legno, non c'era carbone e quello che avevano a disposizione gli scozzesi era un carbone allo stadio primortiale, la torba appunto. Qui non viene utilizzata e l'80% delle distillerie in Scozia utilizza cereali non tostati, non torbati. La torba è un elemento caratteristico che devo dire a noi italiani piace molto perché noi siamo i figli del caffè e quindi a noi in Italia sembra, dicono, che ci piaccia bere il caffè e questo fa sì che ogni volta che ci avviciniamo a qualcosa che sappia di tostato ci renda più favorevoli a degustare quei particolari prodotti. In alcuni casi ovviamente, non è sempre così. Il whisky torbato ha una storia particolarissima per l'Italia. Nella multinazionale per cui lavoravo quando venne presentata una linea di whisky che è diventata poi famosa nel corso del tempo chi la presentò, il direttore del marketing ricordo questo aneddoto il direttore del marketing raccontò e disse secondo me questo whisky troppo torbato non avrà fortuna. Dopo qualche anno è stato licenziato perché quel whisky molto torbato di quella linea della multinazionale rappresenta il numero uno tra le vendite di whisky torbati quindi in un particolare settore, in un particolare ambito all'interno del mercato dei consumatori. Al quinto posto lì è l'Italia per quanto riguarda i consumi di single malt tra i paesi che li consumano nel mondo e il whisky di malto per noi rappresenta una buona fetta di mercato diciamo oltre il 50%. Nel mondo si beve non torbato e i whisky non torbati sono molto particolari perché lì andremo a leggere, andremo a vestire in questa occasione speciale indosseremo questo whisky perché avremo bisogno di particolari sensazioni ed emozioni e profumi e gusti che ci darà questo whisky in particolare l'Inkwood. La selezione è una selezione particolare Castrain Selection ovvero sono i whisky che vengono presi esattamente come sono nella botte al termine dei 14 anni di invecchiamento. Questo whisky si entra nella warehouse, nei magazzini di stoccaggio si sceglie quella botte che la si è acquistata la si sceglie, la si prende, la si seleziona e il whisky da quella botte passa direttamente alla bottiglia ed è quello che noi faremo adesso andremo a degustare un whisky particolare perché particolare? Perché la gradazione alcolica c'è scritto in etichetta sempre molto chiara in Wilson e Morgan 58,3 gradi. Un'altra cosa che ci dice l'etichetta sarà oltre a quella in cui è stato distillato nel 2007 imbottigliato nel 2021 Sherry finish oloroso che vuol dire? Vuol dire che il whisky questo whisky l'inquod è rimasto ad invecchiare in barili ex barbon per tutto il tempo necessario e poi per un periodo particolarmente importante ha rifinito la sua vita è arrivato a completa maturazione in un barile che ha già contenuto sherry in questo caso sherry oloroso con una media punta di dolce all'interno dello sherry questo però questi barili conferiscono degli aromi particolari al whisky se andiamo a guardare il colore è un colore impegnativo è un colore del whisky che ha 14 anni di invecchiamento la botte conferisce colore ai whisky nei momenti in cui i whisky vengono invecchiati avviciniamo il bicchiere al naso e la sensazione che ci accoglie ogni volta che c'è un barile di whisky è quella di vino di vinoso di uva ma questo non è un whisky che ha solo questo il whisky l'inquod è un whisky particolarmente complesso ecco in questa serata in questo momento della mia giornata voglio bere un whisky complesso voglio stare ancora di più con me stesso voglio avvicinarmi io e il mio whisky e dialogare insieme perché ho bisogno di leggermi nelle profondità bene questo è un whisky profondo questo è un whisky oserei dire quasi da meditazione se non fosse che meditazione è una parola così abusata per cui la utilizzano per tutto anche per il gelato cioè il gelato da meditazione adesso a parte la battuta ovviamente andiamo avviciniamoci a questo whisky parliamo con lui come qualche volta suggerisco ma soprattutto in questo caso quando l'alcol è pronunciato è fortemente presente soffiamo nel bicchiere e tiriamo su con il naso per sentire meglio i profumi ecco che la parte vinosa la parte di frutta di frutta di pesca di pera la parte di frutta matura ci viene incontro 14 anni di invecchiamento il cereale ha fatto il suo lavoro il whisky è invecchiato in quella particolare maniera distillato in quegli alambicchi che gli danno quelle caratteristiche e esaltano particolari profumi e aromi e questi profumi mi accolgono questo sembra quasi una torta della nonna questo sembra quasi un dolce di natale ecco forse questo vestito può essere questo elemento questo whisky da degustazione è più un whisky per un momento caldo per un momento in cui voglio essere coccolato un whisky coccolato e che ci coccola è una bella definizione per un whisky secondo il mio punto di vista con questi aromi con questi profumi vi viene solo voglia di bere e lo facciamo insieme ricordate sempre masticate il whisky nel primo sorso nella prima sorsata masticatelo fate sì che la saliva vada incontro al whisky e si misceli con il whisky armonizziamo il whisky con la saliva sentiremo meglio probabilmente i profumi e i sapori ecco è caldo esattamente come nel naso mi dava questa sensazione è caldo mi accoglie mi avvicina una sensazione di vino di vinoso di sherry appunto ne riconosco l'uva l'uva passa ma anche quella frutta quella frutta matura addirittura la pesca riesco a sentire ma fruttato questa è la parola giusta ecco se abbiamo vicino a noi intorno a noi se vogliamo accompagnare qualcosa con il whisky facciamolo prendiamo un po' di cioccolato la facciamo sciogliere prendiamo della frutta per esempio della fragola della banana o della pera lo intingiamo nel cioccolato fuso e poi andiamo a mangiare questa frutta che meraviglia le sensazioni della frutta si legano con quelle del cioccolato che si armonizzano con il whisky che in questo momento io ho in bocca e quindi tutta la sensazione i profumi di vino di vinoso di pesca di frutta matura vengono incontro ma arriva anche la frutta secca sembra quasi di essere arrivati nel dolce di natale nel momento giusto il panettone il pandoro quel crema quella crema quel miele mi coinvolge forse è proprio questa occasione speciale di cui avevo bisogno per incontrare questo whisky ho fatto la scelta giusta e probabilmente questi video ci aiutano a poter indirizzare fare un percorso verso il whisky giusto al momento giusto ci coinvolge meglio nella nostra vita quotidiana e ancora l'olfatto i profumi a questo momento vengono fuori l'alcol è sempre molto forte molto evidente invade quasi il nostro naso usiamo sempre il trucchetto che vi ho svelato di soffiare nel bicchiere tirare su con il naso i profumi emergeranno meglio si sentiranno meglio ovviamente quando lo beviamo l'alcol è piuttosto invadente piuttosto forte però sembra strano pizzica brucia meno l'alcol di una bottiglia strength cast strength selection piuttosto che una bottiglia comune perché perché senza l'aggiunta dell'acqua noi andiamo a sentire le essenze ovvero l'entità vera dell'alcol del profumo del whisky e questo mi è successo una volta andando a visitare un magazzino di stoccaggio quando andando a prendere il whisky come da barile dopo Cornetta e Cappuccino chiaramente erano le 11 del mattino sono andato a disgustare ad assaggiare un whisky così come era dalla botte e quei profumi sono rimasti impressi in me tanto da farmi diventare un adoratore del whisky a un'altra